rischia di non poter dare risposte ad un'utenza i cui bisogni non si fermano di certo perché siamo in agosto in affanno a quanto pare il reparto di ostetrice e ginecologia dell'ospedale di Nocera Inferiore si tratta di un problema di carenza di personale fin qui niente di nuovo verrebbe da dire ma la questione è più sottile in realtà pare siano state accordate le ferie senza un'equa distribuzione delle assenze insomma per capirci tutti in vacanza in un periodo dell'anno che rischia di trasformarsi in un potenziale girone infernale per chi ha necessità di rivolgersi alle eccellenti professionalità della ginecologia dell'Uberto I purtanto bistrattato quando è stato impiegato per l'attribuzione dei posti conquistati dai vingitori di concorsi pubblici si legga comparto scuola forse questa volta sarebbe stato utile ricorrere ad un algoritmo capace di spalmare davvero le ferie del personale tra aprile maggio e settembre anche perché chi è in servizio in questo momento si sobbarca a turni di lavoro che mettono a dura prova la tenuta psicofisica anche dei chi staccano visti purtroppo non va meglio al pronto soccorso di Viale San Francesco dove i numeri del personale medico e paramedico sono irrisori se paragonati a quelli dell'utenza nella sola giornata di ieri sfiorate le 150 prestazioni con il transito anche di 4 positivi per non farsi mancare nulla medici e paramedici sull'orlo del collasso